Benvenuti! Come ti intrappolano i narcisisti? I narcisisti usano armi segrete contro di te. Quindi bisogna fare attenzione perché i narcisisti ti fanno cadere in una trappola. Prima prova di affrontare il tema, iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tremasco Ufficiale. Seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. E mi raccomando, se hai voglia, se ti va, fai pure donazioni al canale che naturalmente sono ben accette. E veniamo al come ti intrappolano i narcisisti. I narcisisti usano armi segrete contro di te. Intanto bisogna tenere presente questo, che la cosa fondamentale è proteggersi dai narcisisti, proteggersi da queste armi segrete che, tra virgolette, usano contro di te, perché i narcisisti cercano di metterti in trappola. La prima arma, tra virgolette, è quella che è una cosa che patiscono spesso gli esseri umani, che i narcisisti spesso utilizzano e spesso fa anche buon gioco, quello di utilizzare, diciamo, il dare e togliere. Quindi il narcisista prima ti dà, e magari apparentemente ti dà anche tanto, anche se poi in realtà non è che ti dia tutte queste cose, però apparentemente ti dà anche tanto, poi di fatto ti toglie, poi di fatto ti toglie quello che tu hai, non ti lascia altre possibilità. Quindi questa è una delle cose che i narcisisti mettono in atto, quindi fai molta attenzione perché il narcisista dà e toglie, questo è molto importante. I narcisisti, e quindi nel momento in cui ti toglie, le persone provano un attaccamento, perché ti toglie facendoti vivere il senso di colpa. E questo è un altro punto molto importante. Il narcisista ti toglie e ti fa vivere il senso di colpa. Ovviamente quando parlo di narcisisti parlo di persone che non si comportano bene nei tuoi confronti. Poi, tanto bene o male, non saprei mai se si tratta di narcisisti veri, finti, mischiati, insomma, perché ovviamente diventa tutto complicato. È importante però renderti conto che hai a che fare con persone che cercano in qualche modo di incastrarti. E poi un'altra cosa, un'altra strategia che è molto utilizzata dai narcisisti per intrappolarti, quella di isolarti. Cioè cercano di fare terra bruciata intorno a sé, sfruttando un po' il fatto che magari fanno finta di essere innamorati e quindi essere gelosi anche degli amici. E in realtà ti vogliono isolare, perché le persone isolate sono più deboli. Quando una persona è isolata non ha più forza per controbattere, per difendere. Una persona isolata non ha energie, diciamo, per agire. Questo è un dato di fatto, no? Le persone quando sono isolate non ce la fanno più ad andare avanti fondamentalmente. Quando una persona è isolata si appoggia all'unico riferimento e quindi loro ambiscono a diventare l'unico riferimento per te. E poi un'altra caratteristica che hanno i narcisisti è, come dire, un atteggiamento di iniziare a minare la tua fiducia in te stessa o in te stesso. Quindi questo è un altro punto fondamentale. Quando un narcisista mina la fiducia che tu hai in te stesso, inizia a rovinarti. la vita, tra virgolette, perché tu non ti fidi più della persona più importante del modo. Noi possiamo perdere la fiducia in tutti, ma non dobbiamo mai perdere la fiducia in noi stessi, perché nel momento in cui perdi la fiducia in te stesso o in te stessa sei fregato, sei panato. Non hai più possibilità di venirne fuori. Non hai più possibilità di uscire da questo gerone infernale in cui i narcisisti ti fanno cadere. E purtroppo non hai possibilità di liberarti. E allora questo ti porta a delle situazioni estremamente negative, situazioni estremamente nocive, situazioni estremamente nefaste. Per cui devi imparare invece a liberarti completamente da uscire fuori da queste situazioni che sono così dannose per te. E quindi quello che devi fare è definire un obiettivo. E perseguire il tuo obiettivo mantenendo un atteggiamento calmo, un atteggiamento di pace, essere in pace con te stesso, essere in pace con te stesso e saper gestire le tue emozioni. Abbraccia le tue emozioni, anche se sono emozioni magari che apparentemente possono sembrarti negative, ma sono tue. Quindi non squalificarti mai, resta sempre, diciamo, centrato. E mettiti al primo posto, mettiti al primo posto. È fondamentale, è fantastico mettersi al primo posto. La vita è la tua, non è quella del narcisista. Cioè non è che lui o lei, perché poi parliamo di narcisisti uomini, ma ci sono anche narcisistesse, diciamo, o narcisiste donne, non è che hanno, che devono avere potere su di te. Il potere deve essere tuo e soltanto tuo. Ecco quindi che per te è veramente importante liberarti, diciamo, da queste cose. Perché poi utilizzano appunto la strategia di destabilizzarti, no? Quindi ti mettono in trappola attraverso quello che viene definito gaslighting, cioè cercano di farti passare, di minare la fiducia in te stesso, di minare la tua credibilità, sia con te stesso, sia verso gli altri. Cioè cercano di far capire, di far intendere anche ad altre persone che tu sei emotivamente instabile, che tu non hai la capacità di, diciamo, governare le tue emozioni. Cercano di farti passare un po' per pazzo, un po' per folle, un po' per persona sbagliata. E questo è un po' quello che il narcisista utilizza, diciamo, spesso per colpirti, per ferirti e per distruggere fondamentalmente la tua vita, per tenerti in trappola. E poi utilizzano tutti i ricatti. Naturalmente i ricatti sia logici sia emozionali, facendo leva sul senso di colpa, facendo leva sui tuoi rammarichi profondi, sul pentimento. Cercano di farti pentire, di aver fatto delle cose, pentire per il rimorso e per i rimpianti. E tu non devi mai pentirti. Quando fai una cosa, falla perché ci tiene a farla e fottitene assolutamente di tutto il resto. Quindi questo è un punto fondamentale. È un punto fondamentale. Quindi fai sì che il narcisista non ti rompa i coglioni e tu levatelo dalle palle. Quindi devi ritrovare la tua energia, devi ritrovare la tua forza interiore e evitare la trappola. Perché queste sono vere e proprie armi segrete che i narcisisti usano contro di te per rovinarti la vita. E fondamentalmente devi coltivare, rafforzare, consolidare la tua autostima per evitare che un narcisista possa in qualche modo rovinarti la vita. Bene, per questo video è tutto. Seguimi su Instagram, Massimo Trammasco Ufficiale, su TikTok. E ti ricordo di iscriverti al canale attivando la campagna.